Ciao a tutti ragazzi, buonasera io sono Fredericks e benvenuti all'interno della mia vanilla Oggi ragazzi mi trovo sopra il Nether perché credo che andremo a finire la farm di Wither Skeleton Molto probabilmente E credo di uccidere anche il nostro primo Wither Ma devo vedere come si fa perché c'è un trucco per ucciderlo sotto il portale del land Che dopo andremo a vedere Ora per andare alla nostra farm che abbiamo iniziato a creare nello scorso video Se non l'avete visto andatela a vedere l'ho trovato sul mio canale Dobbiamo seguire questa scia di torce Non è troppo lontano Credo tra i razzi bastano Eccolo qua vedete Noi però dobbiamo salire in cima Credo di farci una scala poi qua Per ora usiamo i razzi Ok una volta atterrati qui sopra io direi di metterci per iniziare qualche torcia Che male non fa Poi vediamo un po' cosa dobbiamo fare Sto seguendo il tutorial Spero che poi funzioni questa farm Ok sopra il pillar dobbiamo aggiungere altri 4 blocchi di vetro Quindi da qua fai 1, 2, 3 e 4 Comunque ho cambiato un po' postazione Non so se ci avete fatto caso È un po' da finire però sto iniziando a cambiare Poi da qui andiamo di due blocchi verso dentro Così 1 e 2 E mi sa ora devo fare il portale del nether L'ossidiana ce l'abbiamo a posto Lo facciamo qui al centro In modo tale che poi guardando sotto escono due blocchi di qua e due blocchi di qua E facciamo questo portale Sopra ci andremo a mettere le slab Non so per quale motivo ma ci vanno Le altre slab mi sa che le ho all'interno dello shulker box E infatti eccole qua Sempre comodo lo shulker box Mettiamo due blocchi di lati Poi dov'è la mia ossidiana Mettiamo ossidiana 1, 2, 3 Facciamo proprio il portale minimal 3 Poi slab, slab Due blocchi di ossidiana E sopra due slab Le slab ripeto non so cosa servono Credo per non far spawnare la roba Credo Che infatti mi sa sul vetro non possono spawnare mob Poi dobbiamo fare una sorta di tubo dietro Esatto Quindi si prende altro vetro Che non so se questo basta Ma spero di sì Facciamo una colonna Da qui a qui fino a sotto Dobbiamo lasciare solo uno di spazio Abbiamo queste torce Cioè così E dobbiamo lasciare praticamente uno sotto Stessa cosa di qua Qui è dove uccideremo i nostri Wither Skeleton Anche se credo un po' di modificarla Perché ci voglio mettere la cassa E poi anche dietro Come ci vado io qua Facciamo così Ma a sto vetro non mi basta credo Ecco appunto Spero di averne altro E a voi un altro stack Arriviamo fino a sopra In questo modo Poi si va da sotto Mettiamo due blocchi qua di vetro Trap door Due trap door E poi anche le slab ci servono Fanno sì che noi possiamo uccidere I Wither Skeleton Senza che loro ci colpiscano E ci danno il veleno Mettiamo due trap door qua E due slab qua In modo tale da limitare al massimo lo spazio Vedete? Abbiamo questo qua che alla fine non è manco mezzo blocco È anche di meno di mezzo blocco Mi sa che è tipo un quarto di blocco Poi prendiamo delle ladder Le mettiamo qui per salire In questo modo 18 blocchi Devo uscire di 18 blocchi fuori Eh go out Eh fammi vedere però 18 blocchi eh Eh non l'ho contato Ma lui dice 18 Lo dice in inglese ma si capisce 18 blocchi dai 1 2 3 4 16 17 E 18 Non so cosa serve Come se dovevo fare un altro portale Non ho capito Eh sì Altro portale Ma io non c'ho abbastanza ossidiana mi sa Eh non lo sapevo Non lo sapevo Diciamo così Mi mancano Quanti pezzi 1 2 4 pezzi Che vado a recuperare A casa Non ho altro Modo Facciamo abbastanza in fretta tanto E poi non ho capito se tipo I razzi della 3 Danno anche più spinta Oppure È solo che dura di più La spinta Cioè quello non capisco Sei più potente proprio la spinta Che ti dà All'inizio Mi servono 4 pezzi Sembra che mo lagga di meno Non so perché Ho 4 slot liberi No ce ne ho 3 Posso buttare questa Perfetto A razzi diciamo più o meno ci siamo Cerco di usarne almeno possibile E bro Mi vuoi fare catenere la lava Vieni qua Vieni qua Forse non hai capito chi comanda Eh mi stanno non l'aveva capito C'è un altro È un altro bro Che robe È un altro bro E forse non sta un'ottima idea A venire qua di notte Credo Vai pure zombie Vai ti butto in pasto la lava No mi sta tanto che muri prima Vabbè Ho sbagliato Eh un classico Io che sbaglio è un classico ragazzi Ma mi rimane un'altra volta un secchio Mi rimane un secchio di nuovo Adesso stupido Lo sapete Tanto è nulla e ve lo dico Perché c'ho due secchi d'acqua Non mi servono Come facciamo così Perché c'ho i secchi d'acqua Non lo so Vado a recuperare un secchio di lava contato E faccio uno di ossidiana Ci siamo? Ci siamo Ce ne possiamo andare Spero che dopo tutto sto lavoro funzioni Lo spero Comunque Spero che anche la webcam si veda bene Perché Ho cambiato Posto Come vi ho detto E Mi dà problemi di luce È come se tipo Alza e abbassa la luminosità da sola Spero che Non lo stia facendo Anche se ne dubito C'è non gas Rieccoci qua Completiamo il portale Ok Sempre con le slab dappertutto Poi fai Allora Allarchi qua Tipo di tre Fai uno Due Tre E dietro qua Fai una sbarra in modo tale che Non cadano di sotto In questo modo Ok Torniamo al portale vecchio Mettiamo giusto Due blocchi qua Le porte Devo farmi una porta Ma che cacchio Mi devo fare la porta raga E mi serve anche un wall Il wall ce l'ho Il wall ce l'ho Ma è la porta Come la crafto Il wall va qua E poi devo farmi la porta Quindi ci facciamo Craft in table La mettiamo qua E una porta Questo qua Solo fatto di spruce Ma va bene qualsiasi porta E la mettiamo Qui da dentro E poi Mi devo segnare queste coordinate Non so perché Guarda per comodità Ci faccio una foto Ok ho fatto una foto col telefono C'è nel portale Ci vede dentro E poi esce Distrugge il portale Ah Poi devo moltiplicare per 8 Aspetta è un casino Allora Una cosa alla volta Una cosa alla volta Accendiamo per il portale Ma è un casino Eccoci qua Arrivato qua Spacchi il portale Posso pure lasciare così Non mi importa Poi Anzi no Leviamolo proprio Che è meglio Se no tipo Io torno qua Vedo sto portale Completo Poi arrivo là E non va bene Quindi distruggiamo il tutto Mo' devo moltiplicare Per 8 la x La y Devo andare di meno 1 E la z Per 8 anche Oddio Oddio Mi sa c'è più raggi Del previsto qua Aspettate Metto un attimo pausa Voglio capire Quindi C'è un pillar Di netherrack Non fa niente Devo andare a coordinate La x la devo moltiplicare per 8 Quindi nel mio caso è 175 per 8 Che è uguale a 1.400 Quindi io devo andare a 1.400 1.400 Di x Cioè devo andare 1.400 E ci siamo Mentre per quanto riguarda la z 544 Per 8 Fa 4.352 E 4.352 Quindi non è molto lontano 4.000 Penso chissà dove Andavo a finire 352 E questo Perfetto Hanno suonato il campanello Tanto c'è mia madre Ora dobbiamo alzarci Al livello 203 Meno 1 Quindi 202 Livello 200 Ah è altissimo Livello 202 Alziamoci Si vorrà un po' Ci vediamo appena Sono in cima Tanto sto stack va finito Pure l'altro un po' E poi vedo che altri blocchi ho 170 Non troppo Mi bastano questi 202 Eccoci qua Sopra le nuvole Poi Guardando verso sud Eh sud No nord Lui guarda a nord Aspetta Sud Nord Guardiamo anche noi a nord No a sud Che Oddio E niente A sud Se sbagliamo qua è finita Quindi sud Sud mettiamo un blocco No quanti blocchi 10 blocchi Quindi 1 2 3 4 5 6 10 Un altro portale Madonna quanti portali che mi staffa fa Ce l'ho l'ossidiana Mi sa di si eh Oh zitti zitti Vedi ho fatto bene allevato il portale Facciamo 3 Mi sa un portale 3x3 qua Tutto sto casino per una farm di Wither Scheleton Io non lo so E' il nostro portale Emo Ok Faccio quello che mi dici tu capo Mettiamo così Così Wall E blocco Poi andiamo di qua E' un altro portale Ma stavolta non c'ho ossidiana A questa altezza poi Mi mancano 10 pezzi di ossidiana E io ora Dove li prendo 10 pezzi di ossidiana? Abbiamo un problema Allora Li vedo una pozza di lava Ok Molto più facile dal previsto in realtà Credo sia una pozza di lava Sì Perfetto Perfetto Che fortuna Che fortuna Veramente Prendiamoci Sti 10 pezzi Dove stavamo? L'ho visto Eccola qui Che fortuna Credo che abbiamo finito con l'ossidiana Serve una maggiata di ossidiana Per fare ciò Tantissima Cioè devi fare 4 portali No 5 Facciamo questo portale E anche notte Ok Così Ecco qua Perfetto Abbiamo pure questo portale Fai tutta la base Larga 3 Ma io a stupunto uso la cobblestone Per fare questo Fai così Ci fai anche Delle cose ai lati Per sicurezza Tipo credo Ok Ci siamo 3 slab qui Per salire Accendi questo Eh le ragnatele Tanto le biomo le ragnatele Devo mettere 3 ragnatele qua davanti Ma io al momento Non le posso prendere Devo andare a casa Come si fa? Sì in teoria Entro qua Poi ci rientro Allora da qui Mi porta a casa Vabbè andiamo a casa Mettiamo 3 ragnatele qui Per forza Se non so come fa E tocca Andiamo a prendere ste ragnatele Ci vuole un casino di tempo Per far sta farm Io pensavo era più semplice Cioè non sapevo che si doveva fare anche quella cosa nell'overcourt Pensavo era solo nel nether E so prenderlo Invece Prendiamo ste 3 ragnatele E torniamo lì Forse mi dovrei fare anche un po' di razzi Eh Ma io direi che per questo video bastano 14 13 Quanti ne sono Eccoli qua Ne prendiamo 3 Ne voglio prendere di più Per sicurezza Prendiamo di più Posso posare il binocolo Che non mi serve Ce lo mettiamo qua Dove l'ho messo? Eccolo qua Via Prendiamo ste ragnatele Che non so manco se si possono craftare Io mi sa che le ho prese tipo Da una miniera dei villager Mi sa Vabbè dai Pensiamo che una volta fatta questa farm Ci possiamo fare quanti beacon vogliamo La cosa positiva Andiamo un po' a piedi Se no qua Sprego troppi razzi Non fa niente E andiamo in cima Oh Devo usare comunque due razzi Perché non ci si arriva uno Ora Torniamo qui dentro E vado a mettere queste ragnatele Che vanno messe Qua 3 ragnatele qua Ok E mo posso tornare alla base Giusto? Perfetto Queste ce le mettiamo qui dentro Mo Mo devo andare là Accendere questo Oddio dove mi porta Mo Mi serve altra ossidiana Mi sa Vuoi vedere? Ah no E' un sentiero che ci porta in modo più facile alla farm Credo Non serve a niente Ok allora possiamo fare Non serve ossidiana Mi sa tipo un modo per accederci dall'overworld Questo Che poi non credo di venire qua Perché siamo troppo lontani da casa Credo di usare sempre il nether Cioè si torna qua E? E mo? Perché a me non funziona? Ehm Dice che è finita Ma a me non funziona E mo? Raga a me non funziona Che cos'è sto scam? E' strano eh Andiamo a vedere la fortezza Cioè a lui fa Vedi che è super efficiente Va Ti pare che a me funziona una farm? Ma ti pare? Qua non spunna niente Perché non spunna niente? Cioè se io entro qua Dove mi va a finire? Per sapere eh Aiuto Vai cazzo Ma sono morto Allora ragazzi Un attimo Mo vado a recuperare tutta la roba Se no qua è un casino Ah Ma dalle coordinate là Ma se ci arriva a piedi Mi sale sparisce Devo passare al nether Vabbè ora vedrò un moto ragazzi Io ora stacco Muff camera Cerco di riprendere tutto E dopo Faccio la fine del video Anche perché ora Devo andare a mangiare Va bene Ci vediamo tra poco Ho una brutta notizia Avevo perso il piccone di netherite E altra roba Pure lo shulker box Avevo perso Eh eh Male male eh Ho provato a cercare un po' qua a giro Ma Non lo riesco a trovare E niente Avevo perso quello E lo shulker box Ah Vabbè almeno dai Eh l'armatura ce l'abbiamo Almeno quella Non abbiamo perso un granché Non so che finia affatto veramente Il mio shulker box E quell'altra Cosa Che era il piccone Sopra non ci sono Cioè credo Perché non ho controllato Ma Ecco tutto sotto Mi sa Perché tutta l'altra roba Appena sono venuto qua Stava tutta qua Voglio mandare a controllare sopra Andiamo Dimiti si Ma quanto è alto Scusami Ho finito i razzi già Di già Però ma ho un problemino Perché se io rientro qua Ho paura Che è arrivato dai guider Scheleton Come si fa Ehm Sì 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 Devo sperare che non ci sono i guider skeleton Mi armo già di spada Eh speriamo Comunque abbiamo perso il piccone Mi dispiace tanto Per quel piccone Ah uno è caduto Ehm Ah Oddio ragazzi Che fortuna Ma vuoi dire che Pure qua sta il mio Il mio piccone Mi vuoi dire che sta qua il mio piccone Scusami Ma che Ragazzi ci siamo salvati Non ci credo Ma Com'è possibile Che sto venuto qua Scusami Minecraft è strano Molto strano Mi vuoi dire che la roba È andata fino al portale E poi è caduta qua Com'è possibile Non lo so Comunque ora mi dice Che dovrebbe funzionare Ma a me Tutto vedo Tranne che funziona Devo essere sincero E poi ho finito i razzi E mo Devo andare a casa E fare altri razzi Però ci devono andare a piedi Vabbè Andiamo Addio Allora ho scoperto Che se tipo sto vicino alla fortezza Funziona Quindi secondo me Non funziona Perché non va alla fortezza Cioè non credo Che da dove sto Alla fortezza Possa sponare qualcosa Credo Io ci ho messo le casse Però insomma Mi pare che non cambia niente Andiamo a casa Ci facciamo un po' di razzi E cerchiamo di capire Se funziona veramente Sta farm Quindi alla fine Ho recuperato tutto E pare proprio di sì Pare proprio di sì Io volevo già sconfiggere il Wither Ma se non funziona la farm Come facciamo Quando sto di registrazione Cioè Prima Prima ho fatto 40 minuti Mo più o meno Sto registrando Ah 10 minuti Più o meno Stiamo a 50 minuti 50 minuti di registrazione Amici Vabbè ci sta Abbiamo finito la farm Però non capisco Perché non tanto funziona A me Devo provare a stampare un po' FKA Sulla base di vetro Qua e vedere Ok siamo arrivati Ma da fare Due stack di razzi Tipo Meno male che ho recuperato Il piccone Guarda meno male Perché se no Dovevo prendere un'altra volta Quattro scrap Degli nederite Cioè che alla fine Erano sprecati Perché il piccone Già ce l'avevo L'ho solo perso Allora Amici amici Andiamo Andiamo alla farm La sotto Di gunpowder Di cani da zucchero Che fa sito sta neve qua Comunque Devo fare una piattaforma Nel cielo per forza Per forza Qua che abbiamo Poca carta Poca Facciamoci Un po' di carta Abbastanza Prendiamo anche della gunpowder Io prenderei tipo Due stack Sì Con due stack Ci faccio tre stack Di razzi Con i razzi da due E zitti un po' Sti gatti Allora Sugar cane Sì Sugar cane Buongiorno Paper rocket Li facciamo In questo modo però Oh Ora si che Prima no Abbiamo Abbastanza roba Cibo forse Forse un po' di cibo Ce lo dobbiamo prendere Prendiamocelo Mi sa che ce l'ho anche qua Eh infatti Prendiamo questo Adesso Torniamo lì E cerchiamo di capire Come funziona sta farm Perché a lui Fa vedere proprio che È pieno di Wither skeleton A me ce ne stava Uno contato Che mi sa È spawnato Tra l'altro Quando mi so avvicinato Alla fortezza Sponano solo Quando vado là vicino Perché sto andando a piedi Eh l'abitudine Cioè mi vedi che ne ha prodotto Solo uno di Wither skeleton Che poi era quello là Che mi aveva ucciso Che poi è tornato dentro Allora Eh Qua non funziona niente amici Non mi funziona niente Io aspetterei un altro po' Perché non funziona Cioè mi hai fatto fare Tutto sto casino Per senza niente Ma ci vuole un po' di tempo Non lo so Diamogli tempo Aspetto qua un po' Cinque minuti Non di più Ma mi funziona Eppure dovrebbe funzionare Non è che devo alzare i chunk Perché Praticamente mi sa Sta qua sotto Quella roba Eccolo Funzionato Aspetta Alziamo i chunk Così può essere che magari funziona 20 chunk vai Pesante Oh vedi Vedi che funziona Oh che bello Bellissimo Però volevo fare una cosa Volevo Meno male che funziona Eh Infatti stava di sta qua sotto Prendiamo due casse E due hopper Facciamo Così Oh E in teoria Quando gli uccido La roba va a finire là Giusto Datemi due teste Dai una già la tengo Mi sa sta qua Eccola Due teste Dopo vedo il loot Che mi danno Meno male che funziona Dai Sto contento State solo attenti A non andare nel portale Se no fate la mia stessa fine di prima La mia esperienza Sempre utile Guarda ripariamo No Questo non c'ha manco Il mending Ripariamo questo Vai E' arrivata la testa E' arrivata la testa Manco una testa In tutto ciò E' abbastanza rara eh Ne servono due A me Quanto carbone Carbone Ossamo ci facciamo Testa Manco per sogno Cioè c'ho loading 3 Meno male Dai cadete però Cadete giù Testa Ci vorrà più tempo Del previsto Ok ho ottenuto una testa Aspettiamo la seconda Dai Dai Forza Mi siete bloccati mo Aspettiamo Eh mi sto a riparare la roba Ok stiamo a due teste In teoria già mi bastano Perché con quella che ho Vado a tre Che non è male Abbiamo tre teste di Wither Abbiamo la Sulsend Possiamo fare il Wither Sì dai Andiamocene Ho quello che volevo Ci possiamo fare il nostro primo beacon Non credo oggi eh Oggi provo ad ottenere solo Anni Atherstar Ora Dobbiamo andare Nell'end Ma prima di andare Nell'end Devo capire Cosa devo portarmi Mi sa solo un po' di ossid... Che cos'è Ho ottenuto Un avanzamento Buon per me Dovrebbe essere particolarmente difficile Devo fare una stanza Tipo 5x5 Sotto al portale Alta 3 Ok E mi servono 4 pezzi di ossidiano 4 o 5 5 Ok Vado a recuperare 5 pezzi di ossidiano E ci siamo C'ho anche 5 secchi Tra l'altro Precisi Credo durerà un po' Questo video eh Allora Cerco di fare Abbastanza subito No dove Metti qua Una stanza di 5x5 Ok Perfetto Direzione end portal Ho perso tra l'altro Il mio minecart L'ho perso Ma lo dovrei fare L'ho perso Recupero un minecart Da qualche parte Probabilmente ce l'ho qua Probabilmente sta qua Un minecart No Vabbè 2, 3, 4, 5 E ci facciamo un minecart Perfetto Good Very good Allora Adesso la posso anche posare mo Mi serve Spero funzioni E che non facciamo una brutta fine noi Ma do Sconfigciamo il guider mo Eh sto registrando da un botto eh Facciamo così Uccidiamo il guider e basta Prossimo video ragazzi Si si fa il beacon E andiamo alla farm di guardiani Eh si È giunto il momento Tanto atteso Per la farm di guardiani Non vi avvicinate eh Biglin Maledetti Oglin Eccoci qua Ora Dobbiamo andare sotto il portale del nether E fare uno scavo E fare uno scavo di 5x5 Altro 3 Quindi 5x5 Ovvero Sarebbe questo qua Questo quadrato interno Giusto? Credo sia giusto Devo seguire quindi Eh Questo C'è uno Da qui Eh si da qui devo andare di 3 Quindi fai 1 2 3 Io faccio così 2 di qua 2 di qua E poi di 5 in totale Facciamo un quadrato Dove sta a endstone Che ci devo fare? Non lo so Ce la teniamo Può sempre servire Per fare tipo quei mattoni Ce la mettiamo qua dentro Prendiamo la soul sand Dalle teste del guider Siamo pronti? E insomma Facciamo 1 2 3 Facciamo una t così E mi sa che Ci siamo eh Modo per far spawnare Il maledetto E lui dovrebbe tipo Uscire in piedi qua sopra Ok Siamo pronti? Non tanto eh Lui dovrebbe spawnare qua E rimane bloccato E io lo posso uccidere 1 2 Siamo pronti per il nostro Primo guider della serie Dopo più di 150 episodi Io sono pronto Voilà Eccolo E mo Posso uccidere? No devo aspettare Aiuto Fa paura eh Eccolo che è rimasto bloccato E' più facile ucciderlo così eh Perfetto E abbiamo la nostra Prima nether star Olè Posso fare il bigone Vedi nuova ricetta Nether star Quindi ora Si torna a casa Tutti felici e contenti Ragazzi Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto Se è così Lasciate un like di supporto E commentate Noi ci vediamo domani alle 18.30 Con il prossimo episodio Della Vanilla Io vi ricordo che sono anche live Su Twitch alle 9 Ma non tutte le sere Seguitemi E vi arriva la notifica Di quando vado in live Trovate il link in descrizione Mi raccomando Se ancora non siete iscritti Che aspettate Così non vi perdete I miei prossimi video Da Fredrix è tutto Ciao ragazzi E grazie della visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti